La mia madre l'abbiamo definito sempre un artista geniale e sicuramente con la parola artista intendiamo un artista poliedrico perché ha fatto un percorso molto lungo per quanto riguarda la sua carriera artistica, è partito dalle matite e nella mostra ne abbiamo diverse. Continuando poi con la pittoscultura che è stato uno dei suoi capisaldi, uno dei suoi punti forti, ne abbiamo un esempio alle spalle con questo amore psiche. Poi si è spostato sul sacro, quindi rappresentazioni sacre, rappresentazioni di donne, quindi abbiamo un po' un misto tra sacro e profano finché non è arrivato addirittura all'astrattismo, quindi ha sperimentato tanto, è cresciuto tanto, ha fatto tantissime mostre e ha avuto diverse soddisfazioni, una delle quali per esempio i nuovi giudici, una delle sue opere è stata criticata e osservata da Vittorio Sgarbi che è un grandissimo critico. In questa mostra sono sicuro che lui, dovunque lui sia, sicuramente qui con noi almeno in questi giorni possa gioire del fatto che una buona parte delle sue opere venga vista da più persone possibili. Quindi vi invitiamo qui al Palazzo d'Amico dove avrà appunto luogo questa mostra che è una sua rappresentazione di tutti gli stili che ha affrontato. Ci tengo a ringraziare il Comune di Milazzo che appunto ha reso possibile tutto ciò offrendo come luogo di esposizione nel Palazzo d'Amico prestigiosissimo e infatti in accordo con i miei fratelli abbiamo deciso di donare al Comune di Milazzo il quadro più rappresentativo di mio padre che è appunto Amore Psica alle mie spalle. La mostra, quella che siamo qui in procinto di inaugurare, nasce da un impegno che io avevo preso con il Maestro Fazio ma non solo perché il Maestro Fazio era legato a me da profonda amicizia ma perché Pippo Fazio, preferisco chiamarlo così ha speso moltissimi dei suoi anni, tanti, per la passione che aveva per l'arte. Quindi sul territorio è stato un personaggio che si è sempre impegnato, si è contraddistinto per la divulgazione dell'arte lasciando un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto e lasciando delle preziose opere che noi abbiamo raccolto qui questa sera in questa retrospettiva postuma partendo dai primi, dagli esordi, le matite degli anni 60 fino ad arrivare alle ultime elaborazioni che sono i lavori astratti del 2021. Quindi era un impegno da parte dell'amministrazione ma sempre anche nell'ottica della valorizzazione delle risorse che ci sono sul territorio. In questo caso un omaggio che era assolutamente doveroso nei confronti di chi, come dicevo prima, si è speso per la divulgazione dell'arte che è una delle forme culturali che sono indispensabili oggi come oggi per la valorizzazione di un territorio. Per cui grazie e grazie a voi come omittente di essere qui a immortalare questi momenti. Grazie ancora.